Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sono ospiti con noi questa settimana il consigliere Silvano Rometti per il gruppo Socialisti e Riformisti e Valerio Mancini per la Lega Nord, Mancini anche il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Partiamo subito con gli ultimi lavori in aula. La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha presentato nell'ultima seduta di Consiglio la relazione sullo stato di attuazione del programma di governo regionale. I nostri ospiti di oggi sono stati rispettivamente Rometti a favore, Mancini contro invece, ha dichiarato in aula sul programma della Marini. Parto da Rometti che invece sostiene l'azione di governo. Evidente, insomma, noi pur nell'esame, nel merito dei provvedimenti, noi siamo forza di maggioranza, abbiamo sostenuto la Presidente, quindi con queste leggi elettorali chi elege Presidente e Sindaci è maggioranza, chi non lo fa. Purtroppo nella politica di oggi il trasformismo, i cambiamenti, però io rimango ancorato a una coerenza istituzionale che è quella che ho detto. Cosa si può? La corrispondenza degli obiettivi, dei risultati con quello che si programma. Quindi è un fatto di per sé importante, anche come metodo di lavoro, che si vada a verificare quello che si è fatto e quello che non si è fatto. Rispetto a quello che... Quindi da questo punto di vista, credo di poter dire, insomma, l'ho detto anche in Consiglio, che in un anno difficile comunque, perché l'anno del passaggio elettorale comunque c'è discontinuità rispetto all'azione amministrativa. Qualche mese si perde prima, qualche mese si perde dopo, però i dati e la relazione che è stata trasmessa al Consiglio evidenziano, insomma, una regione che comunque mantiene una solidità di bilancio, che non ha fatto nessun ricorso a prelievi fiscali, che mantiene una sua capacità di spesa, che è dentro i limiti dell'indebitamento, molto dentro i limiti delle possibilità di indebitamento, che quest'anno peraltro con l'assestamento di ieri abbiamo visto sono scesi di ulteriori 8 milioni, da 201 milioni a 193 l'indebitamento complessivo della regione, quindi sta scendendo, che la coda delle risorse comunitarie che la regione deve spendere, parlo delle risorse comunitarie, la vecchia programmazione 2007-2013, che però devono essere spese necessariamente tutte entro il 2017, altrimenti, come dire, ci sono anche problemi seri da un punto di vista che in quell'anno, diciamo, c'è stato un, praticamente il 100% di quello che è stato programmato di risorse comunitarie è stato speso, anche sul versante dell'agricoltura, le infrastrutture, il programma che era stato previsto per le infrastrutture è andato avanti, non a caso le notizie, e devo dire, insomma, voi sapete, ho seguito direttamente in questi anni e ne sono molto soddisfatto, il lavoro per quel che riguarda le grandi opere in Umbria, le trasversali, finalmente, grazie al lavoro di questi anni, la Perugiancona e la Foligno Civitanova, che verrà inaugurata il 28, sono andate avanti e si inaugurano, si consegnano. Senta, lo metti a proposito di questo perché c'è molta attesa, dopo l'inaugurazione potremo anche effettivamente andare al mare in un'ora, come sembra. Beh, da Foligno a Civitanova sicuramente sì, forse anche meno di un'ora, se una media ragione. Da Perugia ad Ancona, quello che si inaugurerà dopo l'estate è il tratto che va da Perugia, appunto, da Pianello, fino a Fossato di Vico, il tratto Umbro, che per noi Umbri è molto importante. Sappiamo che nel tratto marchigiano, che comunque è una viabilità già molto più fluida rispetto ai problemi che abbiamo su Valfabrica, Casa Castalda, quel tratto ancora serve un anno, un anno e mezzo di lavori, c'è una galleria molto importante, però anche lì, l'altro ieri ho visto che tutti i lavori sono stati concordati con l'impresa, e quindi anche per quel tratto, quindi sulla Perugia ad Ancona ancora c'è questo tratto fabriano, che debbano essere completati i lavori, però il tratto Umbro viene consegnato, definitivamente dopo l'estate. Insomma, notizie importanti. Sì, ecco, quindi mi sembra che, ecco perché io ho dato un giudizio positivo, perché, come dire, abbiamo constatato che rispetto a quello che si è detto di fare, poi realmente molti risultati. Poi ho anche detto che, ad esempio, su alcuni settori, sui rifiuti, dire che riusciamo a fare tutto con la raccolta differenziata, come dire, è una grida manzoniana, non si riesce a fare, perché l'abbiamo visto, peraltro quest'anno la raccolta differenziata, dopo anni in cui era cresciuta molto, si è fermata. Bisogna chiudere il ciclo come era stato previsto nell'alleguamento del piano che avevamo fatto a fine legislatura. Ci sono altre questioni dove, chiaramente, anche un punto della situazione serve per vedere le cose buone e anche le criticità su cui bisogna accelerare. Mancini, la Lega invece ha votato contro, perché? Dunque, noi abbiamo votato contro perché, di fatto, questa descrizione meravigliosa dell'attività di governo non la vediamo. Non la vediamo e ce lo dicono anche i cittadini che questo problema, diciamo, descritto dalla Marini è sotto gli occhi di tutti, cioè non sono stati risolti i problemi. Adesso inizio dalla questione dei rifiuti, uscirà presto i dati della raccolta differenziata 2015, ce la delibera, ma ovviamente i cittadini non ne hanno avuto conoscenza puntuale, siamo al 50,7% di media, ben lontano dal 65% di quello che era programmato. Io l'ho ricordato più volte in Aula, l'ho ricordato anche in dibattiti, diciamo, conferenze stampa, l'autorità unica di rifiuti regionale, l'Auri, nella delibera del 29 di febbraio, dice di prendere più tempo, chiede di prendere più tempo, perché i comuni non sono stati in grado, in generale, di fare programmazione insieme ai gestori per raggiungere questo obiettivo. La Regione, dal canto suo, ha fatto tutto quello che doveva fare dal punto di vista burocratico, ha messo anche i soldi, però non ha poi, secondo noi, quindi la responsabilità politica è questa, non ha vigilato, anche se le responsabilità non spettano ovviamente alla Regione su questo punto, però ha spesso un milione e otto che è stato distribuito ai comuni per raggiungere questi obiettivi. Sì, anche di più. Allora io, siccome in questo caso faccio il consiglio regionale, io chiedo che i gestori comuni che hanno preso questi soldi, se non raggiungono gli obiettivi, devono fare una cosa molto semplice, l'ho già detto al Senato in una conferenza stampa quando si è parlato della Val Nestore, devono ridare i soldi ai cittadini, perché le tariffe in Umbre sono cresciute molto della Tari, ci sono anche dei comitati che sono formati nei vari comuni per denunciare questo, la Regione deve vigilare, deve convocare i presidenti di ATI, i quattro presidenti, dire signori, ma i soldi che vi ho dato, quali risultati avete raggiunto? Non li avete raggiunti? Si arriva all'azione imperativa, fino anche alla rimozione, quindi di quelli che sono gli incarichi, perché il peso politico ovviamente della Regione è considerevole, e noi vogliamo indietro i soldi, perché i cittadini hanno pagato servizi, per cui ovviamente si doveva raggiungere i obiettivi, e sia i gestori e i comuni lo hanno fallito. Quindi questo è il punto di partenza, perché alla fine si parla di bollette. Arrivando alla questione trasporti, è evidente che adesso arriverà Renzi, noi siamo contenti che saremo tutti a Valfabbrica a suonare la musica per Renzi, il problema è che è 40 anni che l'opera deve essere finita, ci sono stati dei fallimenti interminabili di tutte le imprese che hanno lavorato in queste grandi opere, la domanda che ci siamo sempre posti, e ce la poniamo ma i cittadini la sanno benissimo, è che quando si fa questi lavori, ovviamente bisogna vigilare che siano fatti dal punto di vista patrimoniale solido, e purtroppo questo non è avvenuto. È un male dell'Italia, quindi anche l'Umbria non si sottrae purtroppo a questo, però è un fatto, 40 anni per finire. Il disastro ferroviario della Puglia, che ha colpito ovviamente la nazione, che ha visto chiaramente piangere tante vittime, l'Umbria ha avuto la fortuna, lo dico tra parentesi, di avere due piccoli incidenti che non hanno provocato per fortuna vittime, ma le condizioni delle ferrovie, dei 193 km delle ferrovie centrale Umbra sono chiaramente pessime. Abbiamo avuto, se ne parli, nel 2013, all'altezza di Monte Castelli, siamo tra Città di Castello e ovviamente Umberto, una frana che ovviamente provocò il farimento di 23 persone, a seguito di uno smottamento che tuttora ha provocato chiaramente dei ritardi e fin anche la chiusura di quel tratto, ma anche sulla zona, se ben ricordo, del Ternano, c'è stato un problema analogo. Quindi non si fa manutenzione, non si fa programmazione, non c'è traccia del raddoppio della stazione di Sant'Anna, sono stati messi dei soldi, non c'è traccia. La domanda, questa la faccio all'assessore Rometti se può rispondere ai cittadini, perché che fine hanno fatto questi grandi progetti, la domanda che comunque faccio ancora al Presidente Marino, per cui ho detto io, ma la viabilità ordinaria è un totale colabrodo, lo dimostrano le infinite segnalazioni sui giornali di Erba che impedisce addirittura di avere la doppia corsia libera. Io ho parlato con i dirigenti, l'ho ricordato chiaramente anche ieri, in un altro incontro che abbiamo avuto con la Presidente Marini, che la manutenzione ordinaria e straordinaria ha bisogno per la provincia di Perugia di circa 20 milioni di euro e di circa 12 per quella di Terni. Ovviamente questo vuol dire programmazione, vuol dire avere in un bilancio di spesa corrente di circa 3 miliardi di euro mettere a regime queste cifre. Siccome il tempo è il mio, vado avanti perché il consigliere Rometti ha parlato qualche minuto in più. Ho contato i secondi. Ho contato i secondi, bisogna dire le cose. La proposta che faremo, colgo da questo tavolo, che è stato anche assessore il consigliere Rometti, la Regione deve fare un'operazione molto semplice, deve chiedere di avvocare se tutte le competenze sulla viabilità ordinaria e straordinaria. Stiamo parlando di ovviamente strade provinciali e strade regionali, sono 2.700 chilometri quelle della provincia di Perugia e sono circa 1.000 quelle della provincia di Terni. E cosa deve fare la Regione? Prendere a sé tutte le competenze su queste strade, che sono le regionali e le provinciali, e su questo punto puoi fare una riallocazione delle risorse. Stornando al documento, devo dire che un fatto positivo c'è. La pressione fiscale rispetto alle regioni benchmark, l'Umbria ha una pressione fiscale che è diminuita, bisogna dire la verità, quello che è giusto è giusto. Io al Presidente Marini ho fatto anche alcune valutazioni positive, invitandola a portare a conoscenza del Consiglio esempi positivi, perché ieri c'era un'importante, si svolgerà in questi giorni un'importante fiera a Londra, aerospaziale, di cui ci sono sei aziende, Umbre, che ammontano praticamente 330 milioni di fatturato, mi scusi, e 2.900 dipendenti. Questo cluster che a suo tempo la Regione aveva organizzato di mettere in fila, saranno tutti insieme a rappresentare un territorio. Queste sono delle cose positive che bisogna tutelare. Consigliere, la interrompo perché lei ha ben più che recuperato, è stato un fiume in piena, allora dò la parola anche alla Consigliere Rometti. 8 minuti contro 23. No, però mi pare che ha fatto una panoramica molto ampia, e forse Consigliere Rometti, io ho pronti altre domande, ma volete? No, rispondendo diciamo, manutenzione è vero, è un problema grave, è una delle prime questioni che in questo momento i cittadini percepiscono, come la manutenzione delle strade è un tema veramente sentito, è un problema nazionale. So che la Regione, l'ha detto la Presidente ieri, con il Governo, con il Ministro, stanno cercando di vedere, di trovare una forma che possa, perché purtroppo la Regione, io lo so, avendo fatto l'assessore nella scorsa legislatura, nel 2011 prendeva 26 milioni di euro l'anno dallo Stato per queste materie, più prendeva, faceva un mutuo di altri 25, 50 milioni ogni anno per investire, il mutuo non si può fare più perché l'indebitamento non si può salire, i soldi dallo Stato non arrivano più, e quindi questa è la situazione che tutte le Regioni ha. Io inizio legislatura qualche mese fa, rispetto anche alle modalità, le province oramai purtroppo sono nella condizione in cui sono, oggettivamente rifare un punto su come organizzarci per la manutenzione, anche un'agenzia regionale, un soggetto che metta insieme tutti a partire dallo Stato per poter, diciamo, portare avanti un'azione più efficace e economicamente compatibile, è un tema assolutamente centrale. Ferrovia centrale, innanzitutto stamattina ho visto che il Ministro del Rio e il Vice Ministro Neoncini hanno dichiarato ieri che questa richiesta, che era partita già ai tempi miei, di affidare la Ferrovia centrale Umbra allo Stato, a Ferrovia dello Stato, per poter mettere mano a un intervento di ristrutturazione importante che costa diverse decine di milioni, 100 milioni, ha detto il Ministro, è un obiettivo del Governo che verrà portato avanti e hanno previsto le risorse per farlo. Quindi questa è una notizia importantissima perché purtroppo su questo ha ragione il Consigliere Mancini, sulla manutenzione anche a seguito della crisi che c'è stata, Umbria Mobilità, i debiti di Roma e quant'altro, e negli ultimi anni si è stati non all'altezza e quindi c'è, però sulla sicurezza anche qui l'Umbria è stata portata ad esempio dal Ministero, perché pur avendo 190 km di ferrovia a binario unico, il livello di incidenti che vengono recitati, uno è perché c'è stata una frana durante la pioggia, l'altro perché la galleria, non certo perché ci sono stati problemi sulla sicurezza legati alla circolazione dei treni. Quindi questo è un altro elemento su cui vedo la regione impegnata. Per quel che riguarda i rifiuti, io ho sempre detto che la faciloneria con cui viene affrontato questo tema, il 65% non c'è nessuna regione in Italia che ha raggiunto il 65%. L'obiettivo l'aveva dato voi. L'obiettivo l'aveva dato non noi, l'aveva dato la comunità europea, che poi lo Stato italiano ha visto che era un obiettivo che non era realisticamente raggiungibile, addirittura proponeva il 2019, perché nessuna regione ha raggiunto il 65%. L'Umbria ha fatto dal 2011, molti, per la verità se la vogliamo buttare in politica, il comune di Perugia, allora, il comune di Perugia che tu sostieni, nell'ultimo anno è quello che è calato. Un anno fa era oltre il 60%, è sceso, quindi capisci che le cose facili non ci sono per nessuno. Poi ci sono comportamenti, ci sono cittadini, ci sono comuni che debbano avere le risorse per implementare i sistemi di raccolta, però l'Umbria negli ultimi 4 anni era passata dal 30 del 2011 al 50 attuale. Bisogna andare sicuramente avanti e bisogna fare non solo la raccolta referenziata. La gestione dei rifiuti è un sistema complesso, integrato, che va portato avanti in tutte le sue parti. Ricomincio, ci sono altre due domande che volevo farvi su questioni di ambiente. Mancini, le do la parola immediatamente. Vi anticipo però le questioni. Sono venuti gruppi di cittadini qui dentro, dentro questo palazzo. Un gruppo proveniva da Orvieto e vuole sapere sulla discarica le crete che cosa è stato conferito, quali sono gli esiti della valutazione di impatto ambientale. E voi anche della Lega avete fatto una mozione su questo, approvata peraltro dall'Aula. E c'è un altro gruppo della Val Nestore che invece è venuto e ha chiesto interventi per quanto concerne l'ambiente. Allora sono richieste proprio venute dalla gente direttamente qui dentro questo palazzo. Dopodiché se voleva integrare, le do la parola preannunciando questi temi, questi temi a cui vorrei dare una risposta. Allora, intanto l'assessore Rometti fa riferimento ai normativi europei. Mi scusi perché lei è stato per dieci anni assessore, quindi mi scusi. Io non me ne voglia l'attuale assessore del mio concittadino. Ma spensa che ho fatto la seconda lei, non ho sbagliato. Comunque detto questo, la battuta, dunque la questione della normativa europea, non è che si può prendere normative europee, l'ho ricordato, solo quando vanno prese come esempio e queste poi quando non vengono raggiunte, poi è il problema dell'Europa. Cioè, allora, le normative europee o si sposano tutte o non si sposano per niente, perché sulle banche si sono sposate, si è visto i risultati, ma adesso questo non è il tema. La questione dei rifiuti. La Regione ha fatto una delibera per raggiungere quegli obiettivi, punto. Non sono stati raggiunti, non mi risulta che sono stati fatti azioni di sollecito aiati. È giusto, alcuni comuni sono cresciuti, altri sono calati, al di là della loro amministrazione politica, perché sono stati cambiati i parametri di conferimento dei rifiuti in discarica, punto. Questo è il risultato. Le discariche, sì, parametri tra gli ingombranti e quelli normali. C'è stata una ricatelorizzazione degli ingombranti e quindi di conseguenza sono calate un po' in alcuni punti la massa, le tonnellate conferite in discarica. Però senza entrare nell'obiettivo, è che comunque i soldi sono stati dati aiati e comunque ci sono dei comuni che non hanno il costo standard del chilo di rifiuti. Sono discrepanze, per esempio, tra il comune di Città di Castello e il comune di Spoleto, in cui sono ampie discrepanze, bisogna capire perché un servizio tari in un comune costa mediamente di più rispetto a un comune simile per abitanti e che tra l'altro ha la discarica nel suo territorio, quindi con distanze simili. Questo bisogna capire perché fra gestori, fra affidatari, praticamente c'è una differenza del costo della tari. Questo è un punto da capire, secondo me, perché qualcuno gestisce un po' meglio e qualcuno gestisce un po' peggio. Questione delle crete, devo dire che la maggioranza ha emendato l'atto per accogliere un'istanza dei cittadini, quindi andremo a vedere se negli anni 80-90 sulla discarica delle crete è stato conferito qualcosa che non era previsto, questo è il punto. Sulla Val Nestore, siccome il tempo è molto compresso, la Valle di Fuochi non è certo che l'ha chiamato la Lega, ma ce l'hanno chiamati ovviamente i media, i cittadini, perché in quella zona ormai siamo all'emergenza, sono stati sequestrati un'area di 200, se non sbaglio 250 ettari, vado a memoria. E su quel punto però, dal punto di vista politico, la Lega cosa ha fatto? Attraverso il senatore Candiani ha proposto che quell'area venga considerato sito di interesse nazionale, quindi per bonificarlo, investendo 5 milioni di euro all'anno per due anni. Io invito ovviamente tutte le forze politiche di maggioranza a agire su questa proposta di legge che verrà fatta dal senatore Candiani, ma poi a divenire anche ad altre aree dell'Umbria se queste dovessero essere considerate a rischio ambientale. Cioè la protesta va bene, ma la Lega fa anche proposte. Sui discarichi, Rometti, che è stato nominato di nuovo assessore, è obbligatorio il parere. Le preoccupazioni dei cittadini non hanno colore politico, quindi bisogna ascoltarle e il Consiglio regionale ha fatto bene a tener conto di queste preoccupazioni, sapendo, e questo vale anche per l'area di Pietrafitta, che purtroppo, parliamo di 20, 30 anni fa, 40 anni fa, quando queste situazioni si sono determinate, eventuali conferimenti di rifiuti che magari oggi alla luce delle norme attuali non possono essere conferiti o distribuiti, in quegli anni la normativa la consentiva, perché queste aree sono state regolarmente autorizzate e sapendo che la cultura ambientale in questo Paese è nata negli anni 80, dove poi si è cominciata intervenire con norme sempre più restrittive. Quindi, ecco, bisogna tener conto di situazioni e adesso andare a fare le verifiche. Devo dire che il comitato che è venuto in commissione, il comitato della Val Nestore l'altro ieri, ho notato io un atteggiamento, nella gran parte dei membri che sono venuti, un atteggiamento molto serio e responsabile. Dice, noi non vogliamo fare polveroni o sparare nel mucchio o allarmare nessuno. Vogliamo però che ci siano controlli, ci siano prelevi sul terreno, prelevi sulle falde, che si faccia chiarezza rispetto a materiali che pur essendo allora conferiti nel rispetto della legge, però possono esserci state situazioni in cui oggi vanno a compromettere la qualità del territorio, dell'ambiente e anche la salute dei cittadini. Quindi loro chiedono anche, cosa che si sta facendo è in corso, anche un'indagine epidemiologica si chiama, cioè per vedere se malattie o cause di mortalità in quel territorio di un certo tipo sono maggiori che in altre parti della regione. Siccome queste sono indagini che si possono fare, sono in corso e credo che questo sia giusto farlo lì come altrove. Da questo punto di vista penso che la regione fa bene a schierarsi dalla parte, perché la salute e l'ambiente sono quello che viviamo tutti i giorni e sono questioni sulle quali non possiamo essere disattenti. Mi rendo conto che le prime domande erano ampie e il tempo di mezz'ora non ci aiuta a sviscerare tutto. Riesco a farvene un'altra ciascuno nei residui minuti, però vi chiedo una risposta veloce. Allora, per Mancini questa. La Lega chiede una moratoria per la costruzione o l'apertura di nuovi centri islamici e di nuove moschee. Lo ha chiesto anche ufficialmente in aula. Questa però ve l'hanno respinta, sia pure di misura sette favorevoli, sette contrari e cinque astenuti. È andata così. Resta in campo la questione? No, resta in campo. Dunque due consigli fa chiesi della trattazione immediata della mozione, perché questo era il tema che sulla zona di Umberte sta creando, e non solo, molto allarmismo. perché è ovvio quando tu fai una struttura di cui cittadino non ha nessuna conoscenza, è evidente che poi i fatti di DACA ogni giorno, perché sono fatti continui che allarmano le persone, perché è ovvio quando c'è delle persone che tagliano la testa ad altre, è ovvio che questo non fa, come si dice, stare tranquillo in una comunità. Io chiesi la trattazione immediata per proporre questa moratoria e questa interruzione in attesa di far esprimere ovviamente la comunità. La maggioranza ha ritenuto che questo non fosse un argomento legittimo da trattare, hanno respinto la mia richiesta di trattazione immediata. Il consiglio scorso sono stati trattati, questa è una procedura di legge, tutti gli atti che passano davanti le mozioni, ma quando si è arrivati alla discussione della mia mozione calendarizzata sulla moschea di Umbertide o centro culturale, perché le due cose sono simili, cosa è successo? Che dai banchi della maggioranza è mancato via via qualche consigliere, fintanto che nel documento antecedente è mancato il numero legale, tra l'altro in una cosa che riguardava le mio masse, quindi però il problema qual è stato? Si è capito che non si voleva trattare l'argomento, perché se l'argomento sta a cuore, ovviamente la maggioranza, cioè chiarire al di là delle posizioni, chiarire in aula una volta per tutte, cosa intendiamo fare della nostra regione, cosa intendiamo fare che non vuol dire negare la costruzione, non vuol dire negare le iniziative previste tra l'altro da tutte le, previste dalla Costituzione da tutte le associazioni religiose, ma fare chiarezza su procedure, perlomeno l'Umbria dica qualcosa su questo tema, quindi purtroppo andremo avanti ancora nel mese di agosto, quello che io rimprovero in sintesi non è il fatto che venga costruito meno, perché comunque sono sicuro che le procedure, come si dice, urbanistiche sono state corrette, io non metto in discussione nulla, è il fatto che bisognava in un progetto così importante condividere con la popolazione, ma condividere anche con gli organi politici regionali. Grazie, ultimi due minuti per il consigliere Rometti, la domanda è questa, un argomento che non è che proprio se ne parli tutti i giorni, però ho visto un vivo interesse qui dentro quando c'è stata audizione. Lei sta portando avanti l'istituzione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, che vuol dire dare a un paziente quando non sarà più in grado di decidere sul proprio trattamento sanitario, sulle cure e tutto quello, dichiarare prima, allora questa è una novità insomma, in che cosa consiste questa innovazione? Questa è una proposta di legge che abbiamo, che sta discutendo la Commissione, la terza Commissione, abbiamo fatto audizioni, io e il consigliere Solinas, cioè noi abbiamo nella Costituzione italiana una norma che prevede che non si può essere sottoposti a trattamenti terapeutici oltre la propria volontà, accanimento terapeutico e quant'altro. E questo lo si può decidere, se uno arriva in un punto tale della propria vita in cui dice no, io questi trattamenti basta, può deciderlo. Questa cosa nel caso in cui invece uno arriva in condizioni di incoscienza non è in condizione di farlo. Allora di fatto questo disegno di legge, questa legge prevede che un soggetto può delegare e affidare a un'altra persona la possibilità di dire a un certo punto della propria vita, nel momento in cui si trovasse in condizioni di incoscienza, di non essere sottoposto a trattamenti che vanno oltre la propria volontà. Questo non c'entra niente né con trattamenti con le leggi che sono peraltro relativi a legislazione nazionale, quindi etanasia o quant'altro. È solo un modo per facilitare le istituzioni di questo registro, per facilitare l'accesso a un diritto che è previsto già nella Costituzione italiana e che secondo me è un fatto di civiltà e che è presente nella gran parte dei paesi. Molte regioni l'hanno fatto, la stessa, insomma, molte regioni stanno proponendole, devo dire che il governo non facilita questo percorso. Una pillola mi è venuta in mente proprio da ascoltatore, ma chi, il tempo è scaduto, chi sarà la persona che certificherà per qualcun altro le proprie? Questo è scelto dal soggetto che decide di affidare a un'altra persona questa possibilità che può essere anche proprio medico curante. Perfetto, tempo scaduto. Ringrazio il consigliere Silvano Rometti, il consigliere Valerio Mancini che hanno animato il punto di oggi. Appuntamento alla settimana prossima.